ciao ragazze ciao ragazzi perché so che qualche ragazzo mi segue scusate il ritardo finalmente riesco a registrare il video dei vincitori del mio giveaway su dirapesco vi chiedo scusa perché dovevo fare una live visto che i commenti per la maggioranza erano puntati a una live su youtube ma per me significava trovare un attimo di tranquillità e sistemarmi e sinceramente vi dico la verità non avevo questa grande voglia perché non sono ancora in pieno delle mie forze quindi ho deciso di fare un video su youtube e registrare appunto il video e estrarre i tre vincitori mi sto incartando come non mai quindi partiamo subito perché i vincitori saranno tre quindi ci vorrà un po' di tempo i commenti sono 44 e ovviamente compresi i miei e le risposte eccetera eccetera li vedete tutti qui ovviamente allora ecco ovviamente dicevo farò un'estrazione volevo farla con random ma da qualche giorno ho scoperto il canale di Sandra Cires che è spagnola se non sbaglio si ha un accento spagnolo che seguo da un po' e ho scoperto che ha un sito dove c'è youtube random dove ti fa funziona come sua deo penso che sia la stessa identica cosa basta incollare allora il sito è www.sandracires.com e semplifica le cose mentre con random vi dice soltanto di inserire i commenti e lui genera appunto un numero mentre Sandra Cires quindi youtube random funziona un po' come sua deo devi mettere il link del video quindi devi fare un copia e incolla e lo vai a incollare dentro enter youtube video url lo incolli nella barra e fa il load quindi carica i commenti ovviamente caricherà tutti i commenti sono 43 e non 44 boh come mai va bene perché il 44esimo forse è l'ultimo che ho messo io può essere? ah no si uno l'avevo eliminato ok però qua mi dice 44 non lo so perché comunque tranquille perché vi calcola tutti cioè è un sistema sicuro ecco se poi dopo aver estratto i vincitori non siete d'accordo me lo fate sapere ma comunque è molto trasparente la cosa ok ah ecco replace one page for video ok lo dice per quale motivo vedete lo dice perché traduciamo italiano caricamento 44 commenti discussioni 1 risposte in pagine per video quindi è per questo che risultano 43 quindi tranquille allora adesso non mi basta che per sapere i vincitori cliccare a caso selezionamento vincitore ripeto sono tre vincitori partiremo dal primo no sono tre dal terzo partiremo dal terzo vincitore rullo di tamburi vediamo chi ha vinto ah perfetto allora rifacciamo perché è un mio commento quindi ripetiamo eh io ho risposto a tutte praticamente uscirò cali californian kree perfetto due commenti e un mi piace questo che vedete qua sono i commenti che lei ha lasciato e il mi piace che sicuramente l'ho messo io io metto sempre il mi piace non è riferito al video eh quindi se trovate per caso da qualche parte zero non fa riferimento al video ma al suo commento quindi complimenti a californian kree che è la terza vincitrice del giveaway me lo segno california kree terza andiamo a vedere chi è la seconda sicuramente uscirò di nuovo io make up and beauty 92 come seconda posizione complimenti Anna perché conosco appunto la ragazza la seguo già da un po' andate sul suo canale perché parla un po' di tutto sì make up ma anche fa tanti video call make up beauty b a uti beauty il telefono 92 seconda adesso the winner is al primo posto quindi il primo vincitore troviamo arte e cucina al primo posto due commenti e un like che ho lasciato io perfetto allora arte e cucina al primo perfetto allora leggetevi bene l'info box avete qualche giorno di tempo per potermi dare i vostri indirizzi che io manderò a rapesco e rapesco spedirà ad ognuno di voi vi chiedo una gentilezza non lo fa l'azienda ma lo dico io anche per per l'azienda quando ricevete il giveaway quindi il pacco se non volete fare un video fate almeno le foto scrivete il nome del mio canale il nome dell'azienda taggate l'azienda e taggatemi così so che vi è arrivato e anche l'azienda lo sa e insomma questo è lo scopo e tutti siamo più felici vi prego di farlo perché insomma è un dare e avere un dare e ricevere un po' in tutti i sensi perfetto io adesso vi do un bacio e un abbraccio e ci vediamo al prossimo video vi darò una news che ritorneranno i pacchetti pacchetti gli spacchettamenti di Amazon che mi ero fermata perché non stavo bene e poi avevo un sacco di cosine da fare per il canale quindi presto ricominceranno spero che ne sarete contente lasciatemi un like e un commento complimenti ancora ai tre vincitori li ripeto al terzo posto abbiamo California Cree al secondo posto Makeup Beauty 92 e al primo posto Arte Cucina scrivetemi i vostri indirizzi se avete delle problematiche commentate ciao e alla prossima Ciao 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 Ciao